Sicuramente rispetto a Ravenna abbiamo finito meglio, abbiamo spalmato di più le energie nel corso dei 40 minuti, partenza un po' così e così, come la prima partita, però la reazione è stata positiva, abbiamo fatto un buon terzo quarto, un buon quarto quarto, alla fine era gestire un po' meglio le ultime azioni della partita per vincere anche il quarto quarto, però l'obiettivo è arrivare in forma più avanti, quindi continuiamo la nostra preparazione e sabato prossimo con Orzinovi giocheremo la prima partita ufficiale, ci aspetterà un'altra prova, sicuramente un'altra partita da giocare al meglio.